Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ok, ah, nice, cazzo! Ok, in Italian? Dove hai messo le palle nel culo? Dove hai messo le palle nel culo? A posto. Da dove sei? Che è Umi? 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 Chi è Umi? Umi Zon Umi Zon Umi! Umi! Oh, vedi stai a mangiare il culo! È bello vedervi di nuovo insieme, come a Capodanno. Vi voglio bene ragazzi. Chi è? Dienge! Bella, vesso! Grazie Dienge! Siamo di nuovo insieme, come a Capodanno! Tutti insieme! Scusate ragazzi, portugal, puoi fare per il mio stream un piccolo sub? Ok, ma buono Ma buono, eh? Vieni, vieni Perché comunque lavoro rispettabilissimo Lavoro più vecchio del mondo No, no, le sex worker è nuovo Le troie sono il lavoro più vecchio del mondo Ah, tu le metti tutte sullo stesso piano Oddio, sono libere, anzi, beate loro Beate loro che con un culo e due tette fanno i milioni Anche tu potresti farli, Giada No, no, no Potremmo... Potremmo... Cosa? 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 Ah, quello è il blu qualcosa Ci lavoravo Poi ho detto, va bene In street blu c'è Cosa? Azzà Grazie Azzà Buon banle avenues ma non ca... Ed è tutto pazza No che cazzo hai! E però che cazzo hai? Bisogna essere la leone più grosso dentro la giungla se no a qua noi non vedi il caazzo Mettilo dentro Mettilo dentro Azzà Questo'è uscito dalla capatòi Pappadoio L'abbiamo un po' abusata Un po' il po' L'abbiamo un po' abusata Perché c'è scritto bastardo dietro Grazie Al Vabbè Al è sempre un signore Al è sempre un signore Solo perché ti ho difeso Montenegro Montenegro Worldwide Ok sei sicuro? Secondo te Gab Se prendiamo Montenegro ce l'hanno Ragazzi ora Riccardo Rosario è un giocatore professionista Di poker Aspetta Riccardo Rosario Poker Riccardo Rosario chiude i suoi corsi professionali Per dedicarsi al poker Il nuovo Diegao italiano Assurdo Ricordiamo Di che cosa non so Io sono un signore Io C'è un ragazzo Mangia Un chat Ravorava qua Ha riconosciuto il tuo E bravo Ma te Cazzo Sei forte Sei in forma Bro Sei sempre in forma Scusami Siamo in streak Siamo in streak da 4 Alziamo un po' No Ci butta giù Così 56 66 Una mano Ultima mano Insieme Vai Gabb Sei più brutto Rispetto Auguri per domani Cucciolo 173 bilioni 737 milioni Right now Yeah Now Your face Is in Italy In Italy In Italy In Italy In Italy You are going in Italy In your life No Okay It's beautiful Italy Come si dice Dovresti venire If you back in Rome Madonna No In Rome In Italy Il vostro genere di musica Avrei ferito Non è solo dark Eh? Solo dark Che cazzo è solo dark? Che cazzo è? Solo dark Dark genre Cos'è il dark genre? Ah è dark polo Ah lo dark polo No vabbè ma che grandi Che siete raga Che grandi No vabbè assurdo Excuse me Tu parlais francese? Oui J'ai parlato francese Moi aussi Oui J'ai m'appelé J'ai 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 Respondé Allé Vabbè